Allora, io sono l'insegnante di scienze motorie dell'ITAS Chimiri di Camenzaro. Quest'anno finalmente siamo riusciti a concretizzare questo progetto e a venire qui con 50 alunni della mia scuola e dai mesi in cui è stato preparato questo viaggio già mi ero reso conto che sarebbe stata sicuramente un'esperienza molto positiva, veramente fantastica.